Io mi adatto dove metto il mister, io do l'anima lì. Sì che il mio ruolo è una mezzala, però non mi trovo neanche male lì da esterno. Stiamo facendo molto bene in questo periodo e credo che magari meritiamo qualcosa di più. Dopo quello che abbiamo dimostrato, potevamo avere qualche punticino in più, però siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare solo così. All'alzarsi la domenica e vedere la classifica dove stiamo adesso è brutto, sono sincero. Però questo è uno stimolo in più che ci deve dare, essendo là sotto, per dare di più e cercare di magari smuovere e di risalire al più presto. Perché secondo me meritiamo molto di più. Il mister ha dei valori importanti che io mi rispecchio a volte in lui, perché c'è una carica, c'è una voglia di emergere che a me stimola qualcosa in più. Io, come avete visto, sono molto aggressivo, molto carico. Quindi il mister, quando magari ha pure questo atteggiamento e tutto, per me è il massimo. Sono molto contento. Il Venezia è una grandissima squadra, siamo noi carichi di affrontarla questa partita ai migliori dei modi, perché, come sappiamo, loro sono una bella squadra, sono molto forti. Però io credo che noi, come abbiamo dimostrato, possiamo giocare con chiunque.